ragazzi bella a tutti eccoci di nuovo qui sul nostro commodore dove nella nell'episodio nell'episodio nel video precedente dove abbiamo un po visto i comandi basilari del basic che ci serviranno per sviluppare questa piccola avventura che proveremo a creare con il commodore questa piccola avventura testuale almeno cercheremo di farlo abbiamo visto i comandi base che useremo e avevamo salvato qualcosa sì avevamo salvato vediamo un po che c'era qua dentro che non me lo ricordo ok avevamo sì ha fatto questo listino con g uguale a 1 che era la variabile del giocatore abbiamo creato queste due stanze che se g uguale a 1 lui ci printerà 6 nella tua stanza adesso creeremo solamente delle stanze di test poi le andremo casomai a rimodificare a rinominare quando avremo implementato i movimenti dentro le stanze e allora sei nella tua stanza se g è uguale a 2 ti trovi nel il salone di casa poi mettiamo in un'altra facciamo la 120 if g è uguale a 3 metteremo ora ti trovi nella cucina facciamo queste tre stanze per ne facciamo anche un'altra abbiamo fatto la tua stanza il salone la cucina e facciamo un'uscita all'esterno con un if g4 then print ci printa che siamo nel giardino ok facciamo queste stanze poi le andremo a rinominare modificare come vogliamo nel frattempo mi servono mi servono queste stanze solamente per farci diciamo la griglia di movimento perché noi adesso dovremo inventarci come far variare g1 immettendo le direzioni le direzioni noi non ci muoveremo mettendo giardino stanza metteremo delle direzioni tipo nord sud est e ovest come si usa nelle avventure testuali cioè metteremo se digitiamo nord cambieremo stanza e andremo da qualche altra parte perciò diciamo che qua ci siamo messi la direzioni la direzione delle stanze come faremo a farlo dovremo creare una mappa di queste stanze nel senso che useremo delle variabili che al cambiare della variabile della direzione varieremo anche il valore di g che è il giocatore per esempio se noi siamo nella nostra stanza che è questa e g è uguale a 1 dovremo far capire al commodore che se io digito nord la variazione di nord quando sono in questa stanza dovrà essere cambiata l'unico problema è che dovremmo fare queste variabili in modo molto locale perché se no ogni volta che noi digiteremo nord varieranno tutte perciò noi metteremo intanto i punti cardinali faremo nord sud est ovest e questi saranno le direzioni di movimento poi ovviamente tutto quello che riguarda gli oggetti prendere lasciare degli oggetti lo vedremo poi per il momento cerchiamo di muoverci all'interno di queste quattro stanze allora come faremo metteremo delle variabili delle variabili che sono appunto nord sud est ovest e da lì dovremo poi muoverci le variabili le metteremo tutte a zero perciò prima della descrizione delle stanze noi faremo sì che tutte le variabili sono sempre a zero perciò siamo al 110 al 100 la prima descrizione della stanza perciò noi metteremo che alla variabile 50 alla linea 50 metteremo che nord useremo solamente l'iniziale ovviamente non saremo a scrivere nord completo perché se no nord è uguale a zero due punti perché nella stessa riga si possono mettere più comandi interponendoli con i due punti in basic nord è uguale a zero sud è uguale a zero est è uguale a zero e ovest che in questo caso useremo la doppia v per west è uguale a zero perfetto perciò se adesso andiamo a vedere il listato avremo una riga 50 con l'azzeramento totale delle variabili noi adesso abbiamo g che è uguale a 1 praticamente ci troviamo nel il modificatore che avremo è la linea 100 che se if g è uguale a 1 noi avremo scritto sulla schermata sei nella tua stanza ok come facciamo adesso a mettiamo caso che il salone si trova a nord della mia stanza cioè io uscendo dalla mia stanza mi trovo in salone dovremo andare a modificare questa riga la riga della stanza la modificheremo aggiungendo una cosa due punti nord è uguale a due perché perché se noi abbiamo tutte le variabili azzerate nella riga 50 azzeriamo tutte le variabili quando il programma arriverà alla riga 100 e printerà che sei nella tua stanza con i due punti mettendo n uguale a 2 amplieremo la variabile nord a 2 perché questa cosa semplice perché noi ci potremmo muovere solamente in quella direzione quando daremo l'input nord la variabile nord in questo in quel momento che noi siamo nella stanza non sarà più 0 come all'inizio diventerà 2 automaticamente perché il programma arriverà alla riga 100 e printerà che siamo nella nostra stanza la variabile con due punti n uguale a 2 aumenterà a 2 e noi potremo andare in quella direzione digitando nord perché tutte le altre tre sono rimaste a 0 mentre nord è diventato 2 che significa che adesso noi metteremo le linee di direzione come faremo qui sarà un po' diciamo più complesso dovremo mettere le prime variabili con il testo allora cambiamo totalmente riga e andiamo alla 400 spostiamoci così ci andiamo oltre faremo che allora intanto dovremo mettere il print dei comandi su cosa fai 400 io metterei un print normale lasciamo una riga vuota e 401 metteremo l'input input finalmente il programma ci chiederà cosa fai perciò cosa fai chiudiamo e praticamente useremo la dollaro sì perché la prima lettera usiamo la dollaro così vediamo se sbaglio qualcosa stanza proviamo a fare run vediamo se c'è qualche errore sei nella tua stanza cosa fai come vedi come vedete il programma g uguale a 1 incontra la condizione che se g uguale a 1 lui scriverà sei nella tua stanza in questo momento alzato la variabile a 2 del nord cosa fai noi dovremmo scrivere n ovviamente adesso non fa una sega perché non abbiamo scritto i comandi le direzioni perciò adesso cominceremo a scrivere le direzioni 410 dove vado facciamo così if se a dollaro è uguale a nord se a dollaro è uguale a nord then g che è il giocatore la variabile giocatore diventerà il valore di nord g uguale a n che significa? che significa che se adesso siamo nella nostra stanza e n è uguale a 2 g diventerà uguale a n cioè il giocatore diventerà 2 è come se noi avessimo detto se io inserisco nord in questa stanza mi devi variare automaticamente automaticamente la posizione di g che diventerà 2 perciò noi cambieremo stanza perché qui faremo poi un due punti go to linea 50 riazzereremo un'altra volta tutte le variabili pronti per la nuova spanza facciamo un test non ci sono errori ranniamo il programma sei nella tua stanza cosa fai? sud non abbiamo niente scritto run nord ci dà un errore in 410 if addono è uguale a nord e già è vero perché la variabile è più alta if a dollaro ah no 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 scusate ho sbagliato io perché qui va messo tra virgolette va messo tra virgolette please scusatemi errore mio lì digitazione del comando oddio che palle scusate and nord devo mettere degli spazi facciamo così e nord spazio then go to non ci dovrebbero essere errori adesso cosa fai? nord non mi prende nulla perché vediamo eh si cosa fai? cioè devo uscire dal programma ok list allora mettiamo l'input cosa fai? a dollaro if a dollaro è uguale ad n then g uguale a n go to 50 e go to perciò io digitando nord if a dollaro e nord then g uguale a n go to 50 vediamo un po' nord ti trovi ti trovi nel salone di casa giusto? come vedete abbiamo inserito n e noi ci siamo spostati nel salone di casa perché? perché inserendo n abbiamo messo la variabile a dollaro che è uguale ad n catta la riga successiva del programma che è la 410 che dice se a dollaro è uguale a n g diventa uguale a n e torniamo indietro alla 50 in questo momento riazzeriamo le variabili ma g riazzeriamo le variabili nord sud est ovest ma la variabile g è rimasta a 2 perciò ci printerà l'if il 110 if g uguale a 2 then print ti trovi nel salone di casa abbiamo cambiato stanza però abbiamo un problema questa variazione qua scusate un attimo che mi sta squillando il telefono scusate ragazzi scusate l'interruzione ma telefonata di lavoro e non mi andava a montare il video perciò lo sto facendo direttamente in presa diretta ho messo un attimo pausa la registrazione allora dicevamo eravamo arrivati alla questione che con il comando che input a dollaro se a dollaro è nord il valore di g diventa uguale a nord torniamo alla riga 50 riazzeriamo i valori di nord sud est ovest però il valore di g è rimasto a 2 perciò noi abbiamo che adesso g è uguale a 2 e ci troviamo nel salone di casa easy allora qual è però il problema è che questo comando quello della riga 410 questo è vero che il valore di nord deve essere se a dollaro uguale a nord mettiamo però il valore di nord deve essere anche maggiore di 0 perché noi abbiamo tutte le variabili a 0 nella riga 100 come vedete dove siamo nella nostra stanza nord diventa 2 perché? perché noi dobbiamo far sì che soltanto possiamo digitare solo nord se no se noi digitiamo sud e sud è 0 ci prenderebbe anche il comando sud invece noi dobbiamo far sì che soltanto al comando i comandi superiori a 0 perché? perché così almeno se qui nord è uguale a 2 ma sud rimane 0 se digitiamo sud non abbiamo nessun effetto perciò dovremmo aggiungere che se il dollaro è uguale a nord e e qui entra un'altra comando che è una comando logico del basic e mettiamo un po' di spazi 1 2 3 4 5 6 e facciamo così 7 arriviamo al limite allora se a dollaro è uguale al nord and nord che ho scritto extra ignored certo and nord è maggiore di 0 then g uguale a nord go to 50 in modo che soltanto se un valore è maggiore di 0 e maggiore di 0 lo diventa qui quando su questa riga sei nella tua stanza nord uguale a 2 adesso facciamo così così salvo il comando vediamo che me l'ha salvato list la 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 si eccolo qua 410 se dollaro è uguale a nord e è maggiore di 0 then g diventa nord e torniamo alla riga 50 adesso ragazzi questo lo dobbiamo fare per tutti i punti cardinali perciò 410 facciamo 411 e lo facciamo con sud 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 g uguale sud dovremmo averlo registrato vediamo eccolo qua infatti 411 abbiamo se a dollaro è sud e sud è maggiore di 0 then g uguale a sud perché lo facciamo come questo se noi qui avessimo messo il comando sud avremmo preso il punto cardinale di sud se digitavamo nord ci diceva che non potevamo farlo perché il nord non era maggiore di 0 e non ci spostava da nessuna parte uguale adesso lo faremo sull'altro punto cardinale basta variare il numero 412 if ovest and o uguale a 0 g diventa ovest list eccolo là abbiamo ovest e poi abbiamo il 413 che è west e west è maggiore di 0 g diventa west e torniamo alla riga che cosa abbiamo fatto? abbiamo aggiunto i punti cardinali adesso se ragniamo il programma come vedete sei nella sostanza cosa fai? andiamo ad ovest non posso farlo per il semplice motivo che non abbiamo ovest nella stanza dove eravamo g uguale a 1 non abbiamo ovest abbiamo nord uguale a 2 perciò ovest non è maggiore di 0 perciò è un comando che non possiamo fare perché nella stanza dove siamo abbiamo solamente nord che è maggiore di 0 e prenderà solamente il comando nord run cosa fai? ovest non facciamo null in questo punto possiamo mettere a una riga spropositamente lontana 900 il comando print non puoi fare non puoi farlo e e due punti facciamo tornare il programma con un go to alla riga dove ci fa la domanda che cosa fai perciò all'input 401 io lo metterei addirittura sul 400 così almeno abbiamo il punto di speziatura adesso io qui ragazzi vorrei aggiungere anche un vediamo dove lo posso mettere lo metterei al 420 420 ci metto non so se funzionerà perché non mi ricordo se è questo il programma if a dollaro è uguale a q come direte perché no anzi non a q a f che lo voglio chiamare fine then credo che basti mettere and perché voglio far finire il programma adesso non so se questo comando funzionerà non mi ricordo se è and run run sei nella tua stanza cosa fai ovest mi smaccio in 420 che cosa è sbagliato infatti no non è and if e se certo sono sempre il solito babbo di minchia perché devo mettere sempre i nostri soliti spazietti if a dollaro punti f mi scordo sempre le virgolette vediamo run cosa fai west non puoi farlo ovest o non puoi farlo sud non puoi farlo nord ti trovi nel salone di casa se io faccio q non posso farlo perché non è perché il comando and si vede che non è quello allora io adesso per uscire dal basic dovrò fare un casino che cosa ho fatto aiuto ho fatto un casino lalala lalala non mi ricordo che cosa ho fatto a ecco qua forse questo ho fatto qualcosa sulla tastiera ho digitato una serie di comandi che non mi ricordo come mi si è chiuso addirittura l'emulatore perciò ragazzi ho perso quello che avevamo fatto fino adesso e lo riscriverò tutto e ci rivediamo fra un pochino allora scusate ragazzi ho riscritto praticamente come vedete il listato di prima per fortuna che stavo registrando e ce l'avevo tutto sotto gli occhi perciò ho riscritto le direzioni come vedete 410 se andiamo a nord, est, west, sud poi ho aggiunto anche il 414 che è IF a dollaro uguale a F che F sta per fine per me then print, ciao e due punti comando and che significa che se ragniamo l'avventura ragniamo l'avventura allora ragnone sei nella tua stanza se digitiamo nord siccome 410 IF a dollaro uguale a nord and nord maggiore di 0 perché nord in questo momento è maggiore di 0 perché? perché siamo alla riga 100 e sei nella tua stanza due punti nord uguale a 2 se noi facciamo nord passiamo nel salone di casa ti trovi nel salone di casa adesso noi qui non abbiamo direzioni come vedete perché nel salone di casa prima cosa voglio togliere quello spazio ok perfetto ti trovi nel salone di casa ok nord siamo va bene ovviamente allora run sei nella tua stanza nord ti trovi nel salone di casa se faccio F come vedete mi dice ciao e torno fuori dal basic perché con il 414 IF a dollaro uguale a F then print ciao e end che è fine del programma allora io qui non avevo salvato la riga vediamo se ci riesco adesso perfetto e non abbiamo nel salone di casa direzioni poniamo caso che allora se dalla mia stanza andando a nord vado nel salone di casa ovviamente nel salone di casa andando a sud torno nella mia stanza che è il valore di G perciò se da G che è 1 sono nella mia stanza vado a nord che è 2 e G uguale a 2 mi printa il salone di casa se io dal salone di casa se io dal salone di casa vado a sud ovviamente ritorno nella mia stanza perciò S è uguale a 1 adesso dalla mia stanza io posso andare solamente nel salone perciò nella mia stanza come vedete il cursore n è uguale a 2 nel salone sud è uguale a 1 perché mi riporta nella mia stanza ma ora io dal salone voglio andare anche in cucina perciò due punti la cucina la mettiamo a ovest del salone west è uguale a la cucina che dov'è è la 3 perfetto west uguale a 3 però qui ho sbagliato perché vedete ho messo il giardino che è G uguale a 3 invece G qui dobbiamo aumentare ora trovo l'ho sbagliato a ridigitare perciò dalla mia stanza posso andare a nord vado in cucina vado nel salone poi dal salone a sud ritorno nella mia stanza a ovest vado in cucina e ovviamente in cucina se vado adesso ad est due punti est è uguale a ovviamente il salone poi alla fine dal giardino magari dalla cucina posso uscire in giardino perciò la cucina è 2 andando a est torno in salone andando a sud vado in giardino sud uguale 4 e dal giardino andando a nord punti nord è uguale alla cucina a 3 ho fatto il collegamento cardinale delle stanze ad est vediamo che succede se do un list mi dovrebbe aver apportato le varie modifiche alle direzioni run sono nella mia stanza dove vado nord sono nel salone adesso a nord ho svariate opzioni nel salone perché mi trovo nel salone riga 110 se vado a sud torno nella mia stanza se vado ad ovest vado in cucina perciò proviamo ad andare a sud e come vedete ritorno nella mia stanza se vado a nord ritorno nel salone se vado ad ovest vado in cucina se vado ad est ti trovi nel salone di casa vado ad ovest vado in cucina vado a sud vado nel giardino dal giardino vado al nord torno nella cucina abbiamo praticamente dato tutte le direzioni cardinali adesso io dove mi trovo dovrei fare un comando per vedere il guata perché perché usciamo con no con quit ma con fine usciamo dal programma perché perché io vorrei far sì che con un comando posso rivedere dove sono perciò un comando semplicissimo vediamo un po' 414 che è print ciao end posso fare 415 15 if a dollaro uguale a g che per me sta per guarda then go to dove mi trovo praticamente go to 50 perché le variabili si mantengono go to 50 facciamo questa prova run cosa fai sei nella tua stanza se faccio guarda no c'è un errore if dollaro uguale g non ce la farò mai a mettere le virgolette io ragazzi cioè è una cosa più forte di me mamma mia allora ins ins virgolette gi virgolette basta e c'è un list gli altri ha preso le virgolette le ha prese facciamo un run guardo se ne la passiamo se ne la passiamo se ne la passiamo mettete caso che io qui faccio che la mia stanza è l'unica direzione che posso prendere il nord zud puoi farlo sud non puoi farlo sud west non puoi farlo non puoi farlo mi sono scordato dove sono se ridigito g praticamente lui mi fa un goto alla linea 50 e la linea 50 è praticamente dove a 0 vediamo f fine ciao ciao brutale così faccio il list dove vado se io digito f then print ciao and and interrompe il programma 415 if g che sta per guarda per me then goto 50 praticamente ritorno alla riga 50 dovrei a 0 le variabili dei punti cardinali ma non a 0 le variabili di g che rimarrà sempre memorizzata dove sono perciò in qualsiasi stanza mi trovo lui mi riprinterà la condizione di dove sono in g perciò con questo abbiamo praticamente fatto tutte le direzioni cardinali che posso fare in queste stanze non male perciò adesso io per sicurezza scusate faccio lo save la chiamerò avventura 3 perché ricordatevi che facendo save avventura e salvando se non numerate consecutivo non vi sovrascrive il basic il salvataggio precedente ma non ve lo sovrascrive e rimane il vecchio perciò ricordatevi di farlo consecutivo oppure di scrivere il comando per la sovrascrizione che in questo momento non me lo ricordo casomai lo vedremo nella prossima perciò io faccio avventura 3 virgola 8 salviamo la nostra avventura 3 così almeno non devo riscrivere tutto sto listato e infatti adesso se facciamo load 2 punti dollaro 2 punti virgola 8 abbiamo list avventura 3 andiamo a listarla load 1 punti virgola 8 list ed ecco il listato che ci permette di fare questa direzione cardinale all'interno di queste stanze adesso per oggi interrompiamo qua abbiamo fatto 4 stanze di prova abbiamo impostato che possiamo navigare in queste 4 stanze mettendo le direzioni e possiamo interrompere il programma nella prossima vedremo come interagire magari con queste stanze mettendo degli oggetti all'interno di queste stanze aggiungendo un'altra variabile possiamo fare un test subito aggiungendo l'unica variabile che abbiamo è la 10 che è g uguale a 1 e la 50 che sono i punti cardinali facciamo una variabile 11 e mettiamo che vogliamo mettere qualcosa nella nostra stanza perché no nella nostra stanza metteremo un oggetto di prova dai che vogliamo mettere come oggetto di prova non lo so non mi viene in mente niente mettiamo cellulare perciò c che sta per cellulare è uguale a lo mettiamo nella stanza 1 ovviamente che è la nostra stanza perciò cellulare è uguale a 1 perciò avremo un cellulare uguale a 1 e dovremmo aggiungere una condizione mettiamo una condizione che 500 passiamo alla riga 500 if c è uguale a 1 then print un cellulare però così è un po' povero perché e poi facciamo sempre un go to 400 perché ci riporta sempre al momento della visibilità della stanza del cosa fai così almeno abbiamo sempre il ritorno all'input cosa fai però così è un po' nè perché vedremo scritto se facciamo il run vedete che sei nella tua stanza se faccio se faccio di nuovo invio un cellulare perché giustamente la variabile c è uguale a 1 invece non voglio che deve farmelo prima perché sennò devo ripremere un tasto per vedere la variabile c qui dovrò combattere un pochetto perché devo far sì che che praticamente tutto si veda subito nella stanza e qui dovremmo fare penso una variazione di una variazione dovremmo fare far sì che tutto questo avvenga prima nord che vedete vedo sempre un cellulare perché la variabile è 1 e perciò io in tutte le stanze vedrei un cellulare perciò qui già dovrei fare una cosa che se c è uguale a 1 e chi si trova nella stanza dovrò combatterci un po' però questa ragazzi la vedremo nella prossima perché è un discorso un po' lungo e dopo il video diventerebbe lungo nel frattempo accontentiamoci di poter navigare nelle stanze e aver fatto la griglia di direzione poi adesso studieremo qualcosa per far sì che nelle stanze ci siano degli oggetti e praticamente questi oggetti siano visibili solo in quelle stanze e interagibili più che altro perché la scrittura del programma è semplice ma la logica che bisogna mettere nel programma e nei comandi è più complicata che la scrittura del programma ragazzi un saluto un abbraccio ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao